Un mistero lungo dieci anni, un noir che ha scritto una verità giudiziaria, ma che è ancora capace di allungare le sue ombre di mistero. Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2012, Roberta Ragusa spariva dall'ossa casa di Gello di San Giuliano Terme nel Pisano, per non farne più ritorno. Il marito Antonio Logli verrà condannato in via definitiva nel 2019, a vent'anni di reclusione per l'omicidio. Per la Cassazione il movente fu economico. L'uomo temeva, secondo la Suprema Corte, che una separazione della moglie, esausta dei tradimenti, potesse avere conseguenze patrimoniali. Ma il cadavere non è mai stato trovato e Logli si è sempre definito innocente. Il nuovo pool difensivo dell'uomo, guidato dall'avvocato Andrea Vernazza di Genova e dalla criminologa Anna Vagli, si appresta ora a depositare un'istanza di revisione del processo. I legali sono certi di produrre nuovi mezzi di prova, indispensabili per riaprire il caso, a cominciare da una persona che avrebbe raccolto le confidenze del supertestimone Loris Gozzi. Il pool promette anche nuovi scenari, mai presi in considerazione. L'ipotesi è quella dell'allontanamento volontario. Opposto invece il parere dell'avvocato Nicodemo Gentile, dell'Associazione Penelope, che tutela le famiglie delle persone scomparse, per il quale la giustizia italiana si è già espressa. Per capire se sarà scritto un nuovo capitolo di questo romanzo giallo oppure no, bisognerà attendere il mese di febbraio, quando verrà depositato il materiale prodotto dalla difesa.